Hai uno scooter con le plastiche sviadite e rovinate? Non c'è problema, con il rinnova plastica RS puoi rinnovare al meglio possibile il colore originale con la più lunga durata d'effetto dimostrata superando prove di resistenza a detergenti aggressivi e solventi che nessun altro rinnova plastica è in grado di dimostrarti. Con 100 ml di RS rinnovi circa 2 metri quadrati di superficie piana con una durata variabile dai 6 ai 16 mesi con una sola applicazione. L'applicazione è facile e veloce. Il prodotto va applicato a pennello sulla plastica asciutta e non resa bollente dal sole e dopo qualche secondo uniformata con un panno per togliere il prodotto in eccesso e per essere certi che terminato l'assorbimento la finitura sia tutta uniforme. Terminato l'assorbimento la finitura sarà completamente asciutta al tatto pari all'originale con una durata d'effetto di molti mesi rinnovabile. RS è l'unico rinnova plastica senza siliconi e cere e nemmeno corrosivi che quando termina l'effetto non lascia residui bianchi sulla plastica e in più è adatto anche a rinnovare le vernici sviadite. RS è un prodotto black traction brevettato dalle caratteristiche uniche per resa, durata di effetto, resistenza, multifunzionalità e convenienza e risparmio che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente. Grazie per la visione! Grazie per la visione!